Tu sei detto così così da giovane, dici che non sei credibile, io ti ho fatto un'altra domanda Lei l'altranno sostiene l'accusa? No, non è che stesso, perché è anche giusto che ci sia un'accusa però siamo all'oggi, ecco, questi sono due tra i tanti ragazzi che vivono il presente quindi non sono infarciti di vecchiume ideologico diremmo o anche di quegli orpelli che sì, davvero un tempo hanno anche circondato questo liceo non questo come struttura, ma insomma come orientamento scolastico e tutto quello che li prosegue Lei è sempre convinto di quello liceo del tram oppure qualcosa ne è cambiato? Beh, innanzitutto